Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di Sony A7III Dopo qualche mese di utilizzo per chi mi segue sa che a inizio settembre e fine agosto ho acquistato una Sony A7III Ora non l'ho in mano semplicemente perché sto registrando con questa camera Quindi tutti i video che avete visto fino ad ora da questa angolazione sono registrati con questa camera qui Non ho voluto fare una recensione perché ce ne sono tantissime in rete, c'è tantissima varietà Si può scegliere tantissimo cosa guardare e cosa non guardare Ci sono tantissime informazioni riguardante questa camera online E quindi volevo parlarvi delle mie impressioni di utilizzo e del mio passaggio a full frame Prima di tutto corpo leggerissimo, corpo leggero e robusto Io per un anno e mezzo circa ho utilizzato una Sony A6500 quindi una mirrorless sempre di casa Sony Ma una PSC molto più compatta ma che mi dava un non so che un feeling strano Non mi completava, era piccola in mano Invece questo corpo macchina qui molto ma molto più solido Si sente in mano che è un corpo vorrei dire professionale Ma fondamentalmente anche con l'altro corpo che era la A6500 I contenuti che si potevano realizzare fotograficamente e video erano praticamente professionali Allo stesso identico modo Soltanto che con questa camera ho trovato delle migliorie enormi Allora la forma del corpo macchina di Sony è molto bello e molto interessante Un tantinello piccolo rispetto alle concorrenti Si è visto ora sul mercato Quindi ho fatto passare anche un pochino di tempo per vedere le altre case che cosa producevano E si è visto che Canon e Nikon hanno proposto delle mirrorless full frame Come queste qui di casa Sony Molto più grosse con un grip migliore Infatti una delle cose che si continua a dire a Sony È il problema del grip Che probabilmente è un pochino troppo piccolo Infatti il mignolo tende quando si tiene la camera in mano a scivolare sotto l'impugnatura Ma basta farci un pochino di abitudine e non è un grandissimo svantaggio Finalmente per le Sony full frame batterie che vanno da dio Infatti la Sony A7III insieme alla Sony A9 montano batterie più grandi rispetto alle precedenti E così facendo le batterie durano tantissimo Infatti io non ho più avuto bisogno di comprare 4-5 batterie Ma ne ho soltanto due Una originale uscita con la camera ed una compatibile E qui giungiamo un attimo a una piccola parentesi che è nata da circa un mesetto Ossia il battery gate di Sony Sony ha rilasciato il firmware 2.0 per questa camera E con questo firmware oltre ad aggiungere, sistemare dei bug e delle piccole funzionalità Ha messo un limite all'utilizzo di batterie non originali e quindi compatibili Dicono per prevenire eventuali rotture del corpo macchina Ci sono però delle batterie compatibili come, faccio un nome a caso, l'epatona versione extreme Quelle lì nere per intenderci Che hanno tutti i requisiti in regola per essere utilizzati come batterie originali Infatti montando una di quelle batterie la camera riconoscerà che non è una batteria originale Non ci mostrerà più la percentuale della batteria residua ma ci continuerà a far lavorare Mentre con altre batterie compatibili di terze marche o quarte marche addirittura Questa cosa non è fattibile semplicemente perché la macchina si spegne La macchina va sotto una forma di protezione Ora, è grave o non è grave? Per il professionista che ha bisogno di tante batterie e che ne ha comprate già tante potrebbe essere un problema Per invece chi deve approcciarsi ad oggi ad acquistare questa camera Acquistare una seconda batteria e spendere una media di 30 euro in più Per acquistare una seconda batteria che non è compatibile ma originale Alla fine fondamentalmente questo grandissimo problema non c'è Fosse stato questo problema sull'A7S2 dove abbiamo colleghi che hanno avuto scorte e scorte di batterie Perché è una macchina che risucchiava energia in una maniera impressionante Allora potevo dargli ragione Ma in questo caso qua, dato che le macchine consumano davvero poco, la batteria è molto più resistente Spendere qualcosina in più per avere poche batterie ma originali forse non è un grandissimo problema Autofocus, ragazzi l'autofocus dell'A7 III per me è uno dei migliori che io abbia mai visto Si parla tantissimo del dual pixel autofocus di Canon Usiamo Canon per lavoro, usiamo C200, usiamo 5D È un ottimo autofocus lato video Ma fondamentalmente io preferisco molto di più l'autofocus di casa Sony Naturalmente queste sono impressioni mie personali Che ho visto sul campo che ho provato utilizzando una macchina sia da un lato che dall'altro Non ho fatto dei test empirici mettendo una camera una accanto all'altro perché ce ne sono già tanti in rete Ma da una mia esperienza questo autofocus è fantastico E deriva dall'autofocus della 9 che è per antonomasia il più veloce sul mercato al momento Veniamo ad una delle domande che si fanno in tanti E' meglio aspettare la versione S, acquistare la versione R o prendere questa? Ora, questa domanda si basa tantissimo su due fattori sostanziali Uno, la risoluzione e due, la gestione degli ISO Ora, la line up di Sony della serie 7 si differenzia in queste tre camere La A7, in questo caso la A7 III, che è la camera di base così chiamata da Sony Ma fondamentalmente è una camera perfetta a mio avviso perché ottima per lo scatto fotografico Ed è ottima per il reparto video C'è la camera con la dicitura R che sta per risoluzione E lì cambia il sensore che da 24 megapixel della A7 III diventa sulla A7 III un 45 megapixel Una cosa del genere, ora non ricordo bene il parametro Ma sostanzialmente quasi tutte le caratteristiche sono le stesse E tutto dipende, la scelta tra le due, su lo scopo del nostro utilizzo della camera Se abbiamo bisogno di tanta risoluzione o meno E molti si domandano, ma non conviene aspettare la versione S, questa fantomatica A7 III Che ancora Sony tarda a far uscire Probabilmente Sony tarda a farla uscire perché la A7 II è una camera Non voglio dire perfetta per l'ambito video ma è davvero fenomenale Quindi devono dare una grandissima differenza con il modello precedente E quindi stanno un attimo compensando quello che è il corpo macchina Se si chiamerà addirittura S è probabile che cambierà nome Conviene attenderla per la gestione degli alti ISO Ora, se non girate di notte e non avete bisogno di fare fotografie al cielo stellato di notte a 120.000 ISO Questa camera è perfetta È perfetta perché io giro massimo a 6400 ISO, sempre Quando sono andato oltre, ho sempre realizzato scatti e video Che possono essere completamente o corretti o utilizzati Anche quando supero quella soglia dei simili a 400 ISO Dentro quella soglia mai avuto problemi Quindi per me questa camera, sotto questo punto di vista, le batte tutte Batte le Canon, che è già a 3200 ISO Esempio 5D Mark IV Che fondamentalmente è la EOS R Perché portano lo stesso sensore Canon è purtroppo inferiore In questo aspetto E Sony invece ha fatto un ottimo lavoro Veniamo alla parte del costo Perché in tanti poi si domandano Ma questi 2200€ valgono la pena? Per me sì Per me 2200€ sono il costo di un corpo macchina Professionale con il quale poterci fare sia foto che video Quindi se sei un fotografo Puoi utilizzare questa camera per fare foto Se fai video la puoi utilizzare per fare video E in entrambi i casi per me il prezzo del corpo macchina è completamente giusto Sono leggermente più costose le lenti Questo tutti quanti lo sappiamo Le lenti Sony costano tantissimo Se poi si sale E si vogliono comprare le Zai Le G Master Costano tantissimi soldi Ad ogni modo Secondo me questa è una camera Se la perfezione è 10 Questa è 9 Io mi ci sono trovato benissimo Anche perché ci sono delle lenti Che costano poco Di altre marche Ad esempio sto girando con un 24mm f2.8 Della Samyang Che costa 280 euro 250 euro Quindi la qualità comunque viene rispettata L'autofocus viene rispettato Ma comunque ci si fa il proprio lavoro Ci si può lavorare tranquillamente In conclusione ragazzi Sony A7III Una macchina che vale i suoi soldi Io la consiglio a tutti i professionisti Sia che facciate foto Che facciano video Per chi deve cominciare Questa camera O addirittura per chi viene da una 6003 a una 6005 Questo è l'upgrade perfetto Questo per concludere È che è il doppio slot Una cosa che in tanti hanno sannato di questa camera È il fatto che abbia il doppio slot In realtà io ne uso sempre soltanto uno Non ne utilizzo mai due Ma la A7III ce l'ha Quindi se avete bisogno del doppio slot Per la doppia registrazione Sappiate che questa camera lo possiede Insomma ragazzi Cos'altro dirvi Spero che questo video vi sia piaciuto E che queste mie impressioni su questa camera Vi siano tornate utili Nell'eventuale scelta Dell'acquisto o meno Vi lascio in descrizione come al solito Qualche link utile Per poter andare a navigare Spulciare Tra il mio corredo fotografico E vedere il prezzo E vedere il prezzo di questa A7III Vi invito ad iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Seguimi su tutti i social Perché ci saranno L'ho detto già delle novità Quindi continuate a seguirmi Cos'altro dirvi Ci vediamo prossimamente Con un nuovo video Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti